Arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per un 45enne di Alcamo ritenuto responsabile dell'incendio di un escavatore di proprietà di una ditta nel giugno scorso. I suoi movimenti sono stati ricostruiti dai carabinieri attraverso le telecamere di sorveglianza. Dopo aver effettuato un preliminare sopra il luogo sul terreno dove il mezzo era parcheggiato, avrebbe appiccato l'incendio mediante una bottiglia incendiaria cosiddetta Molotov. Le fiamme erano state poi spente dai vigi e fuoco prima che si potrà essere scongiurando ulteriori danni. Nella sua casa sono stati trovati gli indumenti verosimilmente utilizzati quella notte.